Sergio Guardalusso, figlio d'Arte, un'azienda conosciuta ormai all'inizio nazionale nella riviera triulana, un brand classico, viticoltura eroica fatta sulle varie di pesca, come è nata l'idea di fare un'azienda proprio a questo sito? L'idea è stata portata avanti da mio padre, Miro, che adesso purtroppo è morto, sono 15 anni, però lui viene da quattro generazioni di gente che lavorava già nella vigna, in viticoltura, e noi adesso portiamo avanti questa tradizione che lui ha dato. Le viti sono proprio messe in mezzo alle varie di pesca, vicino all'acqua a San Mastra, dunque. La particolarità è soprattutto che vengono elevate vicino al mare, queste caratteristiche del terreno che gli dà al vino questa sapidità e questa particolarità, Miro ha sempre creduto eau, e finalmente adesso la gente lo sta apprezzando molto. Grazie.